ho risparmiato i soldi della mia paghetta e ho messo da parte ben 18 dollari da versare sul mio libretto che bravo 18 dollari sono parecchi soldi sandrino per salire sugli al perciò trovate nuove carote che oggi sono come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento va via ci wow